ciao amici ben tornato in un'altra puntata della reazione dell'americano io sono l'americano mi chiamo franco oggi vorrei fare una richiesta da chirico grazie chirico per portarmi avanti il nuovo video di nanoware of steel la canzone si chiama protocols of love io sono pronto sempre fanno qualcosa buono è molto buono morto ricchiabile anyways ora cominciamo con i grandi nanoware of steel not this steel grandisco un po ok questo è come un video di boy band speriamo che va forte but anyways al minimo facciamo una risata farò attenzione qui al al testo ora sono pronto do you believe in the power of joy soros ciao 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 E per questo è qualcosa da ridere, non importa proprio che non sia una canzone metallo o rock, ma è buona, il testo è buono e mi sta a fare ridere. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Guardate il testo in italiano, se non capite l'inglese, è un buon testo. Maybe è tradotto, maybe perde qualcosa che tante volte qualche frasette non lavorano in un'altra lingua, but just per vedere cosa il testo è. NWO significa New World Order, come l'Illuminati, quel gruppo che controlla tutto e sta a dire, cara tu sei il mio NWO. This is the protocol of the elders of Zion, baby baby on my NWO, and when I see you my heart will go on. Wow, quello è Rush Limbaugh, lui è uno della radio, è morto penso. Yeah, I think I'm morto l'altro anno, due anni fa avevo cancro. Lui era uno della radio più sinistra, I guess. I mean no, a destra, yes, sinistra, yes. No, no, a destra era a destra, scusa. Oh, è finito. Ok, facciamo vedere i credit e vediamo se c'è qualcosa dopo. La canzone era ben fatta, il testo era ben fatto, la musica era, meh. Ma questa canzone non era per la musica, e lavora così, con questo tipo di pop, come si può chiamare, boy band music. So, hanno fatto una buona scelta, hanno fatto bravi qui, e non c'è niente. Aspetta, cinque secondi. Eh, non c'è niente. Ok, fammelo impiccolire, farlo più piccolo ora. Ok, so, Nanowork Grandi un'altra volta. Sono uno dei gruppi preferiti che ho scoperto in questo viaggio, è sentire la musica italiana, e sono molto contento che l'ho potuto sentire. Grazie Chirico, ti ringrazio. È scritto, oh, e lo so che Cinzia non ci piace questo. Non ci piacerà la musica, questa è metallara. Come mi ha spiegato. Anyways, è scritto qui che piace, ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.